L'amministrazione deve rendersi conto che qualunque scelta faccia deve fare una scelta che sia in funzione dei cittadini e dei commercianti perché altrimenti a che servono le infrastrutture se non servono per i cittadini? Mentre gli operai sono nuovamente al lavoro sui sottoservizi per la realizzazione della Rotonda di Via Fiorentina è nato un comitato al quale hanno già aderito una trettina di commercianti e residenti. Se devi far star male i cittadini per costruire delle infrastrutture che poi in teoria dovrebbero servire a loro se a noi ci fa chiudere l'infrastruttura a che serve? Il coso dell'opera come noto ad oggi sfiora i 10 milioni di euro. Questa rotatoria è una rotatoria esagerata, noi siamo sempre dell'opinione che basterebbe una rotatoria raso. L'ultima chiusura in ordine temporale dovrebbe andare avanti sin dalla fine del mese nel tratto dell'Orciolaia dove insistono molte attività commerciali. Un'attività commerciale che è costretta a non avere clienti perché non possono materialmente arrivare è chiaro che ha dei prodotti che restano in magazzino e dei prodotti come per esempio il macellaio che si deteriorano. Io ho un cumulo di sigarette che non si riesce a vendere, i giornali che ho restituito praticamente a come mi arrivavano sono stata aperta tutto il mese d'agosto, l'unica tabaccaia che c'era in zona e quindi tra l'altro coprivo anche i miei colleghi e la gente non riusciva ad arrivare. Da qui la richiesta all'amministrazione comunale di notizie certe e condivisione sulle modalità operative. Intanto chiediamo maggiore rispetto per i cittadini e per i commercianti, questo assolutamente. Poi se riusciamo anche a concordare i vari lavori e la tempistica dei lavori sarebbe già una cosa fatta bene perché così non va bene. Fanno le cose sopra la nostra testa anche no.